Alle spalle ha 55 anni di storia fatta di tradizione familiare, radicamento sul territorio, attenzione al cliente, competenza e amore per i motori e di fronte un futuro che permette di coniugare tutti questi punti di forza con le nuove frontiere. E' la concessionaria Satiri Auto che si conferma al passo con i tempi e in grado di sfruttare le nuove tecnologie. Oltre alle nostre sei sedi dislocate appunto a Perugia, Ponte Felcino, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio e la nuova arrivata città di Castello, oggi siamo vicini ai nostri clienti anche attraverso vendite trattative e preventivi completamente online, siamo disponibili a far scoprire le nostre vetture anche attraverso video chat e video chiamate. I nostri consulenti potranno eseguire con i nostri clienti delle video chat complete dove sarà possibile visionare la macchina e anche vederla in moto e quindi questo ci aiuterà ad essere insieme ai nostri clienti in completa sicurezza, ma anche visitare i nostri showroom consente ai clienti di rimanere in sicurezza perché disponiamo di tutti i dispositivi previsti appunto per rendere le nostre sedi e le nostre vetture completamente sicure. Quotidianamente infatti avviene l'igienizzazione delle vetture in esposizione così come delle sedi, delle officine e delle auto dei clienti che sono all'interno per riparazioni. L'attenzione al cliente fa parte della filosofia di Satiri Auto che lo accompagna in tutto il ciclo di vita della vettura partendo dalla fase di scelta e di acquisto. Il cliente può trovare una consulenza a 360 gradi, sia i clienti privati che i nostri clienti business. infatti noi possiamo offrire una consulenza anche per tutto quello che riguarda leasing, noleggi e consulenze al parco auto di tutta l'azienda. Grande attenzione poi è riservata al service e ai servizi di post vendita. In tutte le nostre sedi i nostri clienti potranno recarsi ed eseguire manutenzione ordinaria e straordinaria della propria vettura ed acquistare ricambi originali certificati dalla nostra casa madre FCA e Ford.